La sede Lombardia del Centro Sperimentale di Cinematografia è una sede che ha una sua specificità. Si occupa di cinematografia d'impresa e di fiction televisiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo due corsi istituzionali che sono uno riguarda i filmmaker nell'ambito della cinematografia d'impresa, cioè si occupano del documentario d'impresa fino ad arrivare allo spot pubblicitario. E nell'altro corso sono degli sceneggiatori, degli scrittori per fiction televisiva. Quello che cerchiamo di fare è interagire con cultura, tecnologia e nuovi format nell'ambito proprio della cinematografia, del settore cinematografico, che sono senza dubbio delle risposte per il futuro. Per la riconversione che queste aree che rappresentavano prima la vecchia industria adesso devono riconvertirsi a un'industria che è di fatta non tanto di materiali, cioè di cose che si sentono, ma di beni immateriali come sono le culture legate al video. Allora l'interscambio tra sedi esiste e interagiamo attingendo docenti di grande livello che vengono qua e portano la loro esperienza. Federico Savina, Pierino Tosi, Rotunno, direttore della fotografia, Andrea Crisanti che è il preside ed è un grande scenografo, il suo attivo ha, non so, Finestre di fronte, Nuovo Cinema Paradiso vengono e insegnano qua, insegnano quella che è il cinema tradizionale. I nostri allievi imparano anche nel momento in cui viene insegnato il mestiere da docenti che gli trasferiscono del sapere prendendolo anche dal passato. Il tipo di insegnamento che noi andiamo ad apportare agli allievi è un insegnamento che non rientra in tabelle specifiche, ma rientra in una fase laboratoriale, come dire, un laboratorio permanente. Si va a bottega dal Masaccio, si va a bottega da Storaro. Questo ci consente di avere docenti che arrivano dalla professione, cioè sono docenti che vengono da noi tra un film e l'altro, tra una ripresa e l'altra, tra un montaggio e l'altro, allora trasferiscono continua esperienza all'interno dell'aula. Il mio invito è fate domanda perché secondo me è importante nella vita provare nuove esperienze, specialmente nell'ambito della cinematografia, che è uno dei settori che sicuramente ci porterà nel futuro. Siamo in un momento di traghettamento delle nuove tecnologie, ma anche di riconversione dei gusti, della riconversione della nostra vita normale. Facciamolo, facciamo questo sforzo, questo sarebbe uno sforzo ben ripagato. Grazie.